La verità è che non sei differente tu da loro, semplicemente hai un altro modo di vederti le cose quindi non sentirti escluso semplicemente perché gli altri non ti capiscono, perché non sei capito no, è sbagliato come ragionamento, anzi tu guardali loro come quelli diversi guardali loro con la mentalità tutti uguali, tutti che ragionano allo stesso modo se tu pensi in una maniera differente in qualunque ambito, ma ben venga anzi fai di te un valore di questa cosa qua il consiglio che ti voglio dare è molto semplice di non limitarti in nulla di quello che devi fare tu con la tua testa che sia anche solo un pensiero e senza passare all'azione però non limitarti per colpa delle altre persone perché la vita è tua, il cervello è tuo, i pensieri sono tuoi non devi farti controllare dagli altri